Maria Stella Gelmini avrebbe deciso di lasciare Forza Italia, questo schieramento di centrodestra, schieramento politico creato da Silvio Berlusconi molti anni fa di tempo, il famoso imprenditore per eccellenza. Una scelta forse azzardata, forse dettata dal marcontento, forse dettata dalla situazione politica e dal governo presieduto da Mario Draghi, sta di fatto che però la bella, brava e simpatica Maria Stella Gelmini avrebbe deciso di lasciare, ripeto di nuovo, Forza Italia, questo schieramento di centrodestra che è stato, ripeto, creato, realizzato da Silvio Berlusconi. Vi ricordo che non era sola, infatti anche lo stesso Renato Brunetta ha deciso di recente di abbandonare, di lasciare proprio Forza Italia, il partito politico creato, ripeto, da Silvio Berlusconi molti anni fa di tempo. Come si evolveranno i fatti, come si evolveranno le situazioni, non lo so, non si sa. Ai posteri l'ardua sentenza, questa è la risposta che mi sento di dare, come vi dire, a chi mi chiede quali saranno i sviluppi futuri e del centrodestra e di Forza Italia. Bisognerà aspettare, attendere, poi capire, comprendere quello che sarà. Detto questo, grazie a voi tutti utenti di YouTube, il video termina qua, iscrivetevi se vi va a commentare, questo video non vuole leggere la traiva di Silvio Berlusconi né di Brunetta, ma solo informare eventuali persone. Lascio solo per questo motivo, non per altri motivi. Ci sono dei motivi alla base? Certo che sì, bisogna cercare di capire e comprendere quali eventualmente possono essere, ma per non saperne leggere e scrivere, evito di fornirvi per evitare di leggere la traiva di Silvio Berlusconi. Iscrivetevi, ciao a tutti, buona giornata.